con il cartello eravamo in tremila al festival di alcovaccia dove all'inizio c'è stata un po' di tensione con i contadini del posto perché alcuni avevano devastato i campi però senza violenza non c'è liberazione abbiamo ascoltato per tre giorni i complessi musicali in ausia e mondo di merda e abbiamo realizzato una presa di coscienza collettiva ogni giorno centinaia di persone intruppate in famiglie e famigliette venivano al festival per vederci ad un segnale facevamo scattare l'operazione ludibrio dieci quindici di noi giravano per il campo con il cartello drogato sul petto e toccavano urlando il culo alle signore la provocazione contro lottosità borghese è riuscita anche qui a creare notevoli prese di coscienza collettiva abbiamo concluso il festival con questo comunicato la dura repressione della polizia contro le droghe leggere ha coinciso ovviamente con l'enorme diffusione delle droghe pesanti eroina cocaina eccetera ad alcovaccia si sono visti i risultati di questa subdola manovra governativa alcuni hanno venduto eroina e strichinina causando così diversi svenimenti a chi vendeva lsd e altri acidi a prezzi alti sono stati effettuati degli espropri ma sono rimasti dei fatti isolati commento alcune aggregazioni sociali sono un concentrato di in evoluzione riuniscono individui i cui codici esprimono basse vibrazioni ma tutto ciò che accade è giusto ciò non toglie però che nel proprio intimo ognuno non debba protestare contro questa in evoluzione contribuendo così alla sua consumazione grazie a tutti